Musica Ci troviamo al Teatro Tirso dove per le vacanze natalizie c'è una nuova commedia che si chiama Come eravamo e qui abbiamo i protagonisti principali della commedia, ossia Alessandra Ferrara e Giulio Corso Com'è questa commedia raccontata? Ma chi mi vuole raccontare? Ladies first, ladies first Le donne prima Grazie, molto gentile Allora questa commedia è una commedia musicale quindi si ballerà, si canterà sarà sicuramente una commedia nuova, fresca appunto perché il cast è quasi tutto di giovani e la storia parla di, è una storia d'amore di questa ragazza che interpreto io che è un'operaria del cotonificio diretto dal suo datore di lavoro che è anche il suo fidanzato che decide di regalarle per regalo di nozze e di realizzarle un sogno che è quello di fare un musical che è sempre stato il suo sogno. Quindi verrà messo in scena questo musical, la preparazione di questo musical e poi sarà interrotta questa armonia dalla presenza del nostro Giulio Corso che cercherà in tutti i modi di conquistare Sonia e la farà entrare completamente in confusione perché ovviamente lei viene colpita dal fascino, dalla bellezza, dalla bravura di questa figura Che dire, che aggiungere a quello che ha detto Alessandra Allora questo Andres Vega è un attore di Tolo Argentino che arriva in questo cineteatro e incontra Sonia Sonia è la dipendente di questo cotonificio, sta preparando questo spettacolo Lui se ne enamora follemente e le propone di scappare con lui Forse è una roba d'altri tempi, non so chi farebbe più una roba del genere Quasi una favola, sì sì, direi E quindi lei si lascia forse incuriosire in qualche modo più dalla proposta indecente che non dalla figura di questo ragazzo che è sicuramente un ragazzo che porta con sé un certo fascino che è un attore, che vive in giro per il mondo e che quindi porta con sé il fascino del girovago dello zingaro, dell'attore anche in qualche modo Quindi lei propone di scappare e come ogni favola che si rispetti Quindi a chi tocca, come dire, lo struggimento è questa nostra principessa, la nostra principessa Sonia che alla fine sarà costretta a scegliere, in questo triangolo amoroso lei dovrà scegliere se la certezza di una vita serena, di una vita agiata, di una casa, dei figli quindi la vita che può darle Augusto La Rosa o una vita all'insegna della passione, dello struggimento, della scoperta vita che invece potrebbe dargli il nostro Andres Vega Cosa sceglierà? Lo invitiamo a verlo a vedere Chiaramente a teatro Questa comedia, chiaramente, penso, vuole lanciare anche un messaggio, no? Chi avrà a vederla? Che messaggio potrebbe lanciare? Sicuramente il messaggio, diversi messaggi uno dei messaggi che può lanciare è quello appunto di farsi trascinare cioè non farsi trascinare da certe situazioni che la vita può metterti ti può dare la possibilità di avere ma ascoltare sempre quello che è il tuo cuore perché poi, vabbè, la vita con Augusto sicuramente sarà una vita perfetta quindi senza, con delle certezze, con delle sicurezze però questo amore sarà vero, sincero? Penso di no, perché quello con Andres in realtà è stato il vero colpo di fulmine quello che l'ha rapita, l'ha trovato tutte quelle cose che magari solamente una persona che può piacerti davvero riesce un po' a trovare perché in qualche modo l'accogli anche in una maniera diversa ti fa venire quelle famose farfalle allo stomaco e quindi sicuramente il messaggio importante è questo c'è cosa a scegliere scegliere la sicurezza, la certezza e mettere da parte quello che può essere l'emozione più grande e l'amore vero oppure scegliere l'amore vero come si dice sempre dove cuore una capanna però magari vivere una vita diversa ma innamorata felice e anche un po' secondo me anche anche un po' quelle incertezze se sono fatte con la persona giusta alla fine non sono neanche così tanto problematiche sono sempre risolvibili quindi sì il messaggio più grande e più bello è questo e se Alessandra invece nella realtà avesse questa situazione di questa fiction diciamo teatrale come si comporterebbe? ecco bellissima domanda non ve lo dico parla solo in presenza degli avvocati giusto giusto c'è una cosa interessante c'è una battuta molto bella nel testo che è una battuta di uno dei personaggi Fred il coreografo dello spettacolo nello spettacolo Fred dice figlia mia io dai soltanto ascolto al tuo cuore non si possono dare consigli in realtà questa è una battuta di di Shakespeare ed è molto interessante perché in realtà in una situazione di distruggimento di dramma è sempre difficile consigliare bene uno deve soltanto fidarsi quello che direi io del primo istinto perché il primo istinto non difficilmente sbaglia è difficilmente quello sbagliato e lei è messa davanti a un bivio gigante la sicurezza oppure l'amore quello quello che fa vibrare quello che fa l'amore sognato sì però credo che ognuno di noi almeno una volta nella vita si sia trovato di fronte a questo bivio è questa situazione certo ecco adesso finito questo invece spettacolo teatrale quali sono i vostri progetti avete già dei dei sogni futuri dei sogni nel cassetto penso che sogni ne abbiamo tanti parecchi si spera di poter realizzare le cose che ci sono che sono messe in ballo abbiamo io qualcosa sì messa in ballo speriamo possa possa realizzarsi nella maniera migliore e speriamo ne avvengano ancora sempre di più che le accogliamo è importante sarebbe riuscire a costruirsi una vita almeno per me parlo penso anche per Giulio però costruirsi una vita con il proprio lavoro c'è veramente vivere di questo lavoro non farlo nel perché perché no vabbè ovvio noi non lo facciamo come hobby però riuscire dato che è un momento particolare riuscire a concretizzare tutte le nostre cose con il nostro lavoro riuscire a potercela fare poter dire ce l'abbiamo fatta anche noi e tu invece tu vieni già da altre esperienze diciamo ho sogni più a breve termine adesso sto lavorando a un testo che si chiama Jimmy Créitur de rêve che è un testo di Marie Brassard che fa capo al teatro del Quebec e a questo testo sto lavorando un Giuseppe Tesi un regista di Pistoia che fa capo al teatro stabile di Pistoia è un testo molto bello è un monologo anche questo è un testo che parla di sogni in qualche modo a questo mi aspetto teatro di Rilso de Molina non mancate perché come eravamo è una commedia veramente bella 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 per chi ha vissuto gli anni 80 è un peccato perdersela per chi non li ha vissuti è un peccato perdersela Giulio Corso un grande saluto Alessandra Ferrara grazie mille è già Caroleone di Visumo TV grazie mille a tutti a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti.